Questo bacio a sorpresa in diretta tv dal conduttore Jean-Michel Maire sul tanto vediamo lo scalzo ah mamma mia no questa voi pazzesco zoppica un po è stato investito dalla cameraman queste sono riprese non della regia internazionale ma della adesso invece è il primo degli umani question is how do democraciasi respondo scandalo and what will it mean for a for the wider region I think one of your children's just walked in I mean shift is shifting shifting sands in the region to the relations with the north may change I would be surprised if they do the um pardon me pardon me my apologies what is this going to be for the region my apologies North uh sorry um North Korea North South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited oh 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 tambien va a pelear con Mexico Mexico va a pelearme Alemania pero me da la impresion de que Alemania llegó a su límite y Mexico ya también llegó a su límite persecuzione los dodgers enfrentan a los cardenales de San Luis esto es sábado a las 8h30 Sì, questo è quello che il live feste è dovuto sembrare. Que buona la c***a, la accogida che le dieron in Mexica. Si ria, signore, si ria. Siamo preoccupati per il huracan. Beh, oggi è la Powerball's 25th anniversario. Il gioco è iniziato 25 anni in 1992. Il lottere è celebrato per offrire gli eventi e promocioni statali per commemorare l'evento. Durante i anni, Powerball ha venduto over 766 milioni di ticchetti in Idaho solo. E ci sono stati un totale di 5 jackpot in questo stato. Que buona la c***a, la accogida che le dieron in Mexica. Si ria. Signore, sono... Siamo preoccupati per il huracan. Liz Taylor è giocata da Stockard Channing. Marlon Brando è giocata da Cedric the Entertainer. All right. We're coming right back. We're coming right back. I'm going right back. We're coming right back. It's a very funny video. And you're the last time. I love you. And you're the last time. And you don't know this channel. Ego, I'm not. And you don't know. And you're all not. Oh my God, I'm a member. And I have a tweet that I brought you back. I didn't miss you. And they say, you're always a moment. And you're a moment to ask the phone. And you're going to ask, I'll give you a phone call. te ho aprendo quindi guardate te spettacolo olympics athletes from avilina san angelo who are here in town you want me to read yours ok letter f So a F, it can be a first name, last name. Fiona thinks she's the person with the letter F in your life. Of course, I can't believe I forgot about my dear Fiona. You are the F in my life, Fiona. I can't. Okay. Okay. This is the time when you have a baby in Nairobi and kissing today. When you're throwing a sword, you're throwing a sword. You took a throwout. After that, I'm gonna hurt. Dan, what can we kind of expect going into the work week? Well, where are you? He's around here somewhere. There he goes. Come back, Dan. Hi. Hi, everybody. I'm glad you could drop in, Dan. That's okay. It's the least I could do, right? You know, everybody is disappointed that the work week is over, or the weekend's over. But I'll tell you, you know what? The start of your work week is actually going to be off. A sticky situation at an airport in Tennessee after baggage was sprayed with raw sewage. Sprayed? Corn? How'd that get on my bag? Okay, too far. Oh, my gosh. Here's the deal. Here's the deal. Just wait, wait, wait. This just is. We're on TV. We're on TV. There are people watching. We're not in a private area. Just FYI. Oh, my gosh. Last week, Twitter said guidelines were being updated due to confusion. The company says any users who tweets content... Excuse me. Okay, guys. I'm so tired, so I'm just kidding. Alright, pull it together now. It's 5.37. Good Thursday morning to you. I feel really out of the loop right now. I have tears coming out of my head. Good stuff. Good stuff. Good stuff. Good stuff. Good stuff. There's some problem with the policer. Well, we'll be in the center. Camera, no Mario, immagino se. Pa nisam già krivo. Pocvarala se stolici. Nisca. Hoci che da credo? Imamo... Imamo danas nekoliko interessanti meccava. Hoci da toga da credo. Pa pocvarala se stolici, ljudi sta ne rave. Come si a toga. Da da usi... Hoci ti da credo? Hoci da credo. Mi sa da credo, pa povevo od Wawrinki e Karl Schraibera. I da postimo vec sa da Wawrinki no iziavo kako bi uskomo da stolici. Kilometre a l'heure, a certesn endroits, da voi le voyer. C'è un collègue Charles che ha fatto tornare qualcosa in studio. E che ha fatto tornare prima che ci siamo in onda. C'è per questo il rire anche. Un po' di soleil per domani in début di giornata, ma voi lo vedete per la regione di Sherbrooke, c'è s'ennuaggio graduellement in après-midi. Per la Montaiglie del centro del Québec, possibilità diverse, ma soprattutto in fine giornata e che resta comunque confortabile fino a 20 gradi. Per Grand Bambro, si è qua, c'è un po' di stagione. 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 Ok, regione granite, même chose, c'est assez simple. Heureusement, il n'y a pas grand-chose a signaler pour la météo. Mais j'ai un po' di stagione. Je vous laisse en garder le reste du tableau. Moi, j'aimerais vous aider, Valérie. Mais non, ça va, ça va. De vous entendre rire, ça me ferait rire. Il n'y a pas de problème. Alors, vous le voyez, des maximums nettement au-dessus des valeurs de saison. M'n andré, V de Waik. V? V de Waik. V de Waik. V van Frans, ou de Frederic. Vrédéric. Fricule. Oh, nee, mais de... Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! How can you have up ? Hop ! Ha ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Ho ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! no Chiu! La mia mara è la mano! Che è il mio dàp? Che è il mio dàp? Il mio dàp! Ma c'è? Oh, è ancora niente! Ha! Ma, abbiamo una nazione di sui, grazie. Grazie a tutti! Eftewijk, è! E che scrivoi di questo? Lelelelelelele! Sì, è vero un pozzo. Sì, è vero, è vero, è vero. Ma guarda questa... ...peekaboo cat. I'm crying. She is crying, literally. It's like the eclipse, Laura. Do not stare directly at the cat. I'm literally crying. Don't stare directly at the cat. This is why I get nothing done. Take my eclipse glasses. You can't see it. I'm going to go ahead and read this. Can you read this? I'll go ahead and read this. Some people crumble under funny cat videos. Jack in the box. Top goes the weasel. Ready? But wait for it. Here he comes. We could just do this forever. It's so cute. Everybody look. Kitty, kitty, kitty. We're not doing any news today. We're going to do it. We're going to do it. Oh, hey. Two hours. Try to have a bad day after watching that. I know it. I know it. You can't. Wait. One more time. One more time. All right. All right. Every time this cat is playing peekaboo. Do you see it? I don't want to read it. I want to sit here and listen to you laugh. It's much more entertaining. We've shown this like three times. I can't.